Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo. In A1 direzione Firenze e Coda, tratti tra Aglio e Calenzano, e rallentamenti tra Valdarno e Firenze e Sud. Verso Bologna invece si registra traffico rallentato tra Firenze e Scandici e Bivio Varante di Varico. Sulla FPL possibili rallentamenti per lavori tra Ginestra e Fiorentina e Montelupo-Fiorentino in ambo i sensi di marcia. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra, percorsi alternativi sull'SP12 o per viaggi più lunghi sull'autostrada 11. Per quanto riguarda la viabilità cittadina in via Crimea per lavori a Edili dal lunedì 2 a mercoledì 4 settembre in orario 8.18 sarà chiusa da via di Arrumito a via Cosseria. Moversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comuni di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!